Il problema è per dire, vediamo, leggiamo. Allora, mi vende, a scusate in conto, a scusate la società dove insegni tu, dentro, ferma, viene dentro, presso, va l'alluto di Bologna, eccetera, eccetera, e per Ageop. Allora, chissà che oggi sarà qua. Lo daremo, lo consegneremo, quindi l'altro. Allora, facciamo salutare la nostra, dal nostro pubblico, allora, Roberto, che cosa c'è in questa busta? Eh, no, non c'è. Ah, non ce lo dice adesso. Va bene, allora la custodisco io, ci gustiamo a mente, se lo sbaglio, le quattro stagioni di Divanti, interpretate da Roberto Riva, 19 volte campione del mondo. di komtù la nato Shrimp. Oh, la中 bille è справед Potato. Eh, no, non ce lo dice. Allora, non ce lo dice adesso. Mit Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.